Negli uffici comunali di Via Roma all'Aquila c'è la stanza dell'allattamento, una stanza dove le neomamme possono comodamente e con riservatezza acudire i bambini, mentre attendono di usufruire dei servizi forniti dall'ente. Soddisfatta l'assessore ai servizi demografici Paola Giuliani. Le mamme che sono in attesa di ottenere certificati o quant'altro presso i nostri sportelli possono aspettare qui tranquillamente, far giocare i loro bambini oppure allattarli se hanno bisogno di allattarli, possono cambiarli visto che abbiamo posizionato anche un fasciatoio. Però mi piace sottolineare che si tratta di un servizio in più di cui ci si arricchisce, un aiuto in più alle donne, una mano tesa in quel sistema di welfare. L'assessore Paola Giuliani mi ha chiamata per una collaborazione e io ho risposto in maniera positiva, è un'attenzione alle donne, una delle tante iniziative a favore delle donne che comunque stiamo mettendo in campo come amministrazione. Nota a margine, da sottolineare il gran lavoro svolto dagli operai del comune che hanno rinfrescato e adibito a tempo record questo locale con poltroncine, fasciatoio, giochi per i più piccoli e aria condizionata. L'iniziativa si aggiunge a quelle già attivate dall'assessorato guidato da Paola Giuliani per offrire un servizio migliore ai cittadini come il servizio saltafila o quello di traduzione in lingua dei segni agli sportelli.